È importante porre l'accento sulla sicurezza delle nostre case, delle nostre abitazioni nei luoghi dove viviamo e abitiamo. Quindi è parimenti importante l'azione che fanno gli ingegneri, unitamente agli architetti, di sensibilizzare le persone sul tema del rischio sismico, che è un rischio che riguarda l'intero territorio nazionale, quindi anche la nostra regione e quindi anche la nostra provincia. Nella giornata di domenica prossima, 20 ottobre, gli ingegneri e gli architetti saranno presenti nei gazebo che sono allestiti nelle piazze di tutta Italia e quindi anche della nostra regione e della nostra provincia per illustrare ai cittadini il problema del rischio sismico e di come gli ingegneri possono aiutare le persone nel valutare il rischio della propria abitazione. In provincia di Venezia in particolare ci saranno dei colleghi ingegneri e architetti a Mestre in piazza Ferretto con un apposito gazebo e a Dolo in piazza anche lì per illustrare, sensibilizzare, dare informazioni riguardo a delle verifiche sismiche che possono essere condotte da dei colleghi ingegneri e architetti nelle abitazioni delle persone che avranno la cortesia di venirsi a trovare. Grazie.